Buonasera, benvenuti, vi diamo una piccola dimostrazione di come quello che sentirete oggi è già sentito e infatti è stato registrato. Ci sono questi strumenti costruiti e abbiamo potuto modificare l'interno per ottenere un suono molto simile al palo, un tubo metallico sordo, grazie a queste sordine che stanno messe sopra le corde, intervento sulla timbrica. Come vedrete gli strumenti sono solicitati in vario modo, percussione, per spiegamento, oppure a pizzi o quant'altro possa venire in mente a qualcuno, anche qui presente, se vuole, si unisce di bacchetta, pezzo di legno, quant'altro, e può partecipare alla realizzazione di questa cosa, di questa cosa si può chiamare. Quando abbiamo composizione sonora, le distinzioni tra suono e musica nella epoca moderna sono un po' venute a cadere, per cui si parla di musica quando c'è un'organizzazione di suoni. Siccome sono abbastanza organizzate, nonostante sembra casuale, in realtà c'è un'organizzazione sonora, per cui noi, scusi, al buon titolo la possiamo definire anche musica. E' musica realizzata per uno scopo ben preciso e che si dovrebbe sposare, diciamo così, o legare alle immagini che vedrete. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti